Il Signore Dio 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 Per leggere gli avvenimenti della vita Con un occhio non umano Ma con un occhio spirituale Per cogliere la presenza di Dio Cogliere gli invidi di Dio Attraverso le vicende della storia E allora portando all'altare La nostra settimana Certamente porteremo anche Qualche momento difficile Il Signore ci consolerà Porteremo qualche punto interrogativo Il Signore cercherà di aiutarci a capire Apporteremo anche le nostre mancanze E' per questo che noi chiediamo perdono Il Signore Dio Pietà di noi Pietà di noi Signore Contro di Te abbiamo peccato Mostracci Signore la Tua misericordia Dio nipotente abbia misericordia di noi Perdoni i nostri peccati Ci conduca alla vita eterna Signore pietà Signore pietà Cristo pietà Signore pietà Signore pietà Gloria a Dio nell'alto dei cieli Pace in terra agli uomini di buona volontà Noi ti odiamo, ti benediciamo Ti adoriamo, ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo Dio, Padre Onipotente Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo Signore Dio, Agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Perché tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo adattissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amo Preghiamo O Dio che nel Tuo Figlio Sei venuto a cercare a salvare chi era perduto Rendici degli della Tua chiamata Porta a combimento gli nostra volontà di bene Perché possiamo accoglierti con gioia Nella nostra casa Per condividere i beni della terra e del cielo Per il nostro Signore Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio E vive e regna con Te Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli dei secoli Amo L'amore di Dio ci propone Attraverso la misericordia un cambiamento La conversione come conquista di uno stile di vita morale Che sia fedele al Padre Chi opera la conversione è il Figlio Mandato per salvare ciò che era perduto Dal Libro della Sapienza Signore, tutto il mondo davanti a Te È come polvere sulla bilancia Come una stella di ruggiata mattutina Caduta sulla terra Hai compassione di tutti Perché tutto puoi Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini Aspettando il loro pentimento Tu infatti ami tutte le cose che esistono E non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato E se avessi odato qualcosa Non l'avresti neppure formata Come potrebbe sussistere una cosa se Tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da Te non fu chiamato all'esistenza Tu sei indulgente con tutte le cose Perché sono Tue Signore, amante della vita Poiché è il Tuo Spirito incorruttibile in tutte le cose Per questo Tu correggi a poco a poco Quelli che sbagliano E li ammonisci Ricordando loro in che cosa hanno peccato Perché messa da parte ogni malizia Credano in Te, Signore Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Ripetiamo insieme Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore O Dio, mio Re, voglio esaltarti E benedire il Tuo nome in eterno e per sempre Ti voglio benedire ogni giorno Lodare il Tuo nome in eterno e per sempre Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore Misericordioso e pietoso è il Signore Lento all'ira e grande nell'amore Buono è il Signore verso tutti La Sua tenerezza si espande su tutta la terra Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere E ti benedicano i Tuoi fedeli Dicano la gloria del Tuo regno E parlino della Tua presenza Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore Fedele è il Signore in tutte le sue parole E buono in tutte le sue opere Il Signore sostiene quelli che vacillano E rialza chiunque caduto Benedirò il Tuo nome Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo Ai Tessalonicesi Fratelli, preghiamo continuamente per voi Perché il nostro Dio vi renda degni della Sua chiamata E con la Sua potenza porti a compimento Ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede Perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù In voi E voi In Lui Secondo la grazia del nostro Dio E del Signore Gesù Cristo Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo E al nostro radunarci con Lui Vi preghiamo, fratelli Di non lasciarvi troppo presto confondere la mente E allarmare Né da ispirazioni Né da discorsi Né da qualche lettera Fatta passare come nostra Quasi che il giorno del Signore sia già presente Parola di Dio Alleluia, alleluia, alleluia Alleluia, alleluia Dio Ha tanto amato il mondo Da dare il Figlio a noi genito Chiunque crede in Lui Ha la vita eterna Al glas e 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 glas, glas e 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 gl Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accorse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti morboravano, è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzato sì, disse al Signore, ecco Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore Abbiamo avuto modo di dire, spesso, che l'essenza della vita cristiana non sono i riti, non è il susseguirsi di pratiche religiose. L'essenza della vita cristiana è l'incontro tra noi, uomini, e Gesù, che poi è la fonte della nostra fede. Prima di spiegare questo discorso dell'incontro, io vorrei farvi una nota sulla nozione di tempo. Noi abbiamo due modi per capire il tempo. Abbiamo il cronos, da cui cronometro, cronologia, e sarebbe il susseguirsi delle ore, dei minuti, dei mesi, degli anni. Quello è il cronos. E tutti lo viviamo. L'incontro non è un cronos. L'incontro è un kairos, è l'altro concetto del tempo. Che cosa significa kairos? Sono due parole greche, ma giusto per capirci, non per fare sfoggio. Il cronos che cos'è? È il momento in cui Dio entra nella storia con la sua grazia e la trasforma. Allora, vedete, fratelli miei, io voglio arrivare alla fine di questa riflessione, ve l'anticipo già dove voglio arrivare, che noi corriamo il rischio di fare le cose per cronologia. Rischiamo di non incontrare Gesù. Lo so che sto dicendo una cosa grossissima, è anche pesante, ma lo applico a me, così nessuno di voi si può adombrare. Vedete, fratelli miei, che io salgo sull'altare a celebrare la Messa ogni giorno, e durante la domenica o le altre feste, anche più volte in un giorno. Potrei non incontrare Gesù. Io posso andare a Messa tutte le domeniche. Essere fedele e puntuale, potrei non incontrare Gesù. Da che cosa dipende? Ecco, fratelli cari, adesso andiamo a rileggere la pagina del Vangelo, dove abbiamo visto un appuntamento fissato dalla grazia Kairos, ma che qualcuno voleva mettere alla luce del Kronos. Tra le cose che faccio oggi, vado a incontrare uno sguardo. Io devo vedere dove sta Gesù, chi è, come è fatto. Ho sentito parlarne, ma io lo voglio vedere in faccia. E' basso quest'uomo. Allora si mette su quest'albero, che è abbastanza agevole, perché le radici sono tutte fuori, sale su questo sicobolo, che non è nemmeno troppo alto, giusto per mettersi al di sopra degli altri. Vedete quando noi diciamo che le cose non avvengono a caso, ma c'è un disegno di amore. Amore che ci è stato ricordato nella prima lettura dal Libro della Sapienza, dove abbiamo visto questo Dio che pensa a tutti, è preoccupato di tutti, ma sa aspettare tutti. Questo Gesù, che sfizio tiene oggi? Passando sotto quell'albero, si ferma e comincia a stravolgere subito i canoni. Chiama questo Signore per nome, Zaccheo. Zaccheo non era abituato a sentirsi chiamare per nome. Sapete perché? Perché era un pubblicano. Lo stesso che abbiamo incontrato domenica scorsa, che si è fermato in fondo al Tempio, non aveva il coraggio di alzare lo sguardo e dice soltanto, Signore, io sono povero e disgraziato, peccatore. I pubblicani erano gli esattori delle tasse. E vi posso garantire una cosa dalla storia che noi conosciamo, che non avevano niente a che fare con Equitalia. Erano centomila volte peggio. Allora sapete come parlavano di queste persone? Sto dicidraziato, sto fedente, sto maliù. Questo era il nome e il cognome con cui la gente mi chiamava. Stavolta si sente chiamare per nome. Perché l'amore chiama per nome. L'amore chiama per nome. E Gesù sta cominciando ad entrare nella vita di quest'uomo. Però gli chiede un permesso. Scegli perché voglio venire a casa tua. Permettetemi questa piccola parentesi. Vedete l'atteggiamento di Gesù? È di estrema delicatezza. Non usa mai violenza. Gesù chiede sempre il permesso. Apocalisse capitolo terzo. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò. Starò con lui. Ce n'erò con lui. Il Signore bussa alla mia porta, alla nostra porta, cari fratelli. E bussò ogni domenica. Visto che noi gli diamo la possibilità di incontrarci ogni domenica. Noi veniamo qui perché saliamo sul nostro albero. È come desideriamo che Gesù passanto ci chiami per nome. E Gesù lo fa. Quando arrivano a casa, che volete? Zaccheo rimane sempre Zaccheo, eh? Sembro Mariolo, sembro Fetente, sempre... E la gente, la gente, attenzione alla gente. La gente non capisce. La gente vede, ma non capisce. La gente si lascia affascinare e abbagliare dalle apparenze. E noi sappiamo qualcosa di questo, no? O perché l'abbiamo fatto qualche volta, o perché l'abbiamo subito qualche volta, in giudizio degli altri. È andato a mangiare a casa di un peccatore, ma questo sarebbe Gesù Cristo, e questo sarebbe uno che... Ma se avesse veramente questo potere soprannaturale, riuscirebbe a capire che quello è un fetente, disgraziato, mariolo. Perché Gesù Cristo se ne importa di tutto questo. Una cosa bella adesso avviene. Vedete che quando c'è l'amore, quello vero, le parole non servono più. Voi che siete sposati, o se ci stanno dei fidanzati, forse mi davete ragione. Sì, è bello di vicino alla moglie, ti amo, ti voglio bene, ma di quel momento in cui basta solo guardarsi negli occhi, qui nasce la contemplazione eucalistica, per esempio. Quando io sto davanti all'eucalistia, e non tengo parole da dire, ma solo su guardi da scambiarci, qui avviene un silenzio. Cosa stanno facendo? Stanno parlando? Il Vangelo non dice niente. Stanno mangiando? Nemmeno questo lo dice il Vangelo. Si suppone che stanno facendo un poco di colazione. Ma c'è una cosa, che in questo silenzio, Zaccheo, che già si è sentito chiamare per nome, si è sentito guardato dentro, e non come uno che ti condanna, ma come uno che ti sta risvegliando dal sonno. Sentiamo questa esplosione, perché la dovremo spiegare, quando Zaccheo si alza, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Amici carissimi, non lo so, riusciamo a fare qualche calcolo, ma abbiamo bisogno del notaio. La metà di quello che possiedo. Questo ci dà la cifra di che cosa faceva un pubblicano, di quanto potesse rubare un pubblicano. che doveva dare a Roma, era un emissario di Roma, non ce lo dimentichiamo, l'odiata Roma per gli ebrei. Una volta che ha dato a Roma quello che doveva dare, tutto il resto te lo vedi tu, graffia quello che vuoi, e graffiavano parecchio. Se questo, la metà la dà ai poveri, e il quadruplo lo restituisce a chi ha rubato uno, state certi che Zaccheo non si moriva di fame. Capite che cosa è capace di fare un incontro? E questo è un incontro un po' particolare per chi riguarda il danaro, fruttevi cari. C'è un sacerdote che viene qui ogni mese, un padre biblista, il quale, scherzando con noi, dice che la carità comincia sempre di qua. Quando comincia a toccare il portafoglio, la carità comincia ad essere vera. C'è quando tu ci rimetti anche del tuo, di quello che possiedi. Io mi fermo qui, fratelli cari, perché credo che di carne a cuocere Gesù ne ha messo parecchie nel nostro cuore stamattina. Tutto è un incontro. Pensiamo alla domenica in questi termini. Io vengo a messa, ma non per un rito. No, vengo perché questo Gesù mi possa incontrare e possa trasformare la nostra vita. Ve li immaginate Zaccheo dopo questo incontro? Vogliamo immaginare noi stessi dopo che una celebrazione o qualsiasi altra occasione abbia dato la possibilità a Gesù di incontrare e di trasformare la nostra vita? Grazie. 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 Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è ingarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepporto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo e siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che è adorato e glorificato, e ha parlato anche in mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Preghiamo insieme dicendo, Signore, fermati oggi a casa nostra. Signore, fermati oggi a casa nostra. La Chiesa, nell'accoglienza e nella misericordia, produca fiotti di conversione. Preghiamo. Signore, fermati oggi a casa nostra. Il Papa e tutti i Suoi Ministri continuano a lavorare perché sulla Terra regni la concordia e l'amore. Preghiamo. Signore, fermati oggi a casa nostra. Tutti noi non ci lasciamo confondere e turbare dalle vuote parole dei falsi profeti, ma riponiamo la nostra fiducia nella bontà di Dio, che ci ama tutti, indistintamente. Preghiamo. Signore, fermati oggi a casa nostra. La comunità si lascia contagiare dal desiderio di Zaccheo, che supera tutti i formalismi per realizzare il suo incontro di salvezza. Preghiamo. Signore, fermati oggi a casa nostra. La nostra bella isola diventi maggiormente oggetto di cura e rispetto per la meravigliosa natura che è espressione dell'amore di Dio nel creato. Preghiamo. Signore, fermati oggi a tua casa. Nella nostra novena di Nardi dei defunti, in questa settimana, ogni giorno abbiamo ricordato una categoria di persone. Per esempio, ieri abbiamo ricordato tutte le vittime di giovani che sono rimaste vittime della droga, dell'alcol. Oggi vogliamo ricordare al Signore le anime del purgatorio, specialmente le anime, quelle più abbandonate, di cui non si ricorda nessuno. Di cui un esempio lo possiamo avere andando al cimitero, vedendo tante tombe rotte, abbandonate. Ed erano tombe anche di genitori, per esempio, i figli, i nipoti, dove stanno. Allora per queste anime di cui non si ricorda nessuno, ricordiamoci spesso noi e presentiamole all'altare. Preghiamo. Non te lo chiediamo per i nostri meriti, siamo troppo poveri. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amo. Tei fratelli che facciano la raccolta. Canto numero 12, bene dirò. Vene dirò il Signore, non interno. Vene dirò il Signore, non interno. Vene dirò il Signore. Vene dirò il Signore, non interno. Vene dirò il Signore, non interno. Viverrai il corpo nuovo, benedici in questo nostro Dio, viverrai il cielo e il corpo, benedirò il Signore in ogni terra. Io benedirò, benedirò il Signore in ogni terra. Io benedirò, benedirò il Signore in ogni terra. L'acqua unita al vino si assegna della nostra unione con la vita divina di cui ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, il Dio dell'Universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché divendi per noi il ciclo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, il Dio dell'Universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché divendi per noi il bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Umili e benditi accoglierci, Signore. Ti sei gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa. Polificami da ogni peccato. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio si è gradito a Dio, Padre, la nipota e l'infezione. Il Signore diceva per le domani di questo sacrificio, adoro e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa. Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, oh Signore, salga a te come offerta pura e santa e ottenga a noi la pietezza della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con noi. E con noi, 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 con noi. E con noi, con noi, con noi, con noi. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della Palora e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della Domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e lo daremo senza fine, la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, 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 Signore, in Cielo che la terra solo viene in Cielo. Osana, 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 cantiamo al Signore. E nel vento con lui che viene nel nome del Signore. Osana, 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 cantiamo al Signore. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con le fusioni del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzuolo diede i suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in salvivici o per voi. il nostro corso di Gesù Cristo, Grazie a tutti. 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 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. perché oggi, perché a tutti. grazie 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 a tutti. Preghiamo. Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, continui in noi la tua opera di salvezza perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita si preparano a ricevere i beni promessi per Cristo nostro Signore voglio ricordarvi che dopo domani il primo di novembre la festa di precetto c'è la Santa Messa come nei giorni festivi soltanto che per l'esperienza degli altri anni purtroppo alla Messa di mezzogiorno perché c'è il pellegrinaggio al cimitero di tante persone in genere non viene nessuno per cui abbiamo deciso il giorno 1 di non celebrare la Messa alle 12 va bene? quindi siete avvisati alle 10 e mezza si celebra con i ragazzi e con tutti quelli che saranno presenti il 2 novembre, mercoledì alle 8 c'è la Messa come a sera alle 18 qui in chiesa alle 9 e mezza partirà quel pellegrinaggio che con suetudine arriveremo al cimitero alle 10 c'è la Santa Messa e seguirà la benedizione delle tombe come avviene ogni anno profitto per questo momento di imitare tutti andando al cimitero per cortesia siamo civili evitiamo di vivaccare al cimitero è un luogo che ci dovrebbe imitare al silenzio e alla preghiera la stessa sigaretta sulle nostre bocche al cimitero non sta bene pensate poi se cominciamo a mormorare o se sta arrivando mia cognata io me ne vado dalla tomba di mia sua c'è la so cosa che noi sappiamo eh non le facciamo non le facciamo bene andando al cimitero preghiamo il Signore sia con voi il Dio di ogni consolazione risponda nella sua pace i vostri giorni e vi congeda i doni della sua grazia vi liberi sempre da ogni pericolo e confendi nel suo amore i vostri cuori vi colmi di fede speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre portateci su a casa vostra andate in pace e in pace canto numero 41 fatta questo modo di Dio Onnipotente Passa questo mondo, passano i giorni, solo chiama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i giorni, solo chiama non passerà mai. Grazie.